Carissimi protagonisti e amici di Amol'Italia, buonasera dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Questa mattina ho preceduto la delegazione del Parlamento europeo con lo Stato di Israele che congiuntamente con la delegazione del Parlamento europeo con l'autorità nazionale palestinese ha ospitato qui in questa sede il professor David Pollock che è un ricercatore del Pecter Middle East Institute che ha sede a Washington. Ebbene, Pollock ci ha presentato un sondaggio estremamente interessante sull'orientamento dei 300.000 palestinesi che risiedono nel settore orientale di Gerusalemme. Al 97% si tratta di palestinesi musulmani, il restante sono cristiani. Questo sondaggio evidenzia una disparità flagrante tra l'immagine che noi abbiamo dei palestinesi e la loro realtà. Prima di entrare nel merito del sondaggio, ma mi limiterò soltanto ad alcuni dati perché il tempo non lo consentirebbe, vorrei evidenziare un dato non meno significativo che riguarda l'atteggiamento degli egiziani nei confronti di quella che qui in Europa e in Occidente è stata presentata e continua ad essere presentata come la primavera araba indicando che si tratterebbe di una rivolta popolare per la libertà e la democrazia. Ebbene, in questo riquadro noi leggiamo che da un sondaggio svolto telefonicamente al Cairo e ad Alessandria, le due maggiori città egiziane, dove si concentra la stragrande maggioranza degli 82 milioni di abitanti, svolto tra il 5 e il 10 febbraio, quindi nel momento saliente della rivolta popolare, da questo sondaggio si evince che la domanda è perché pensi che il popolo egiziano si è rivoltato, ciò che emerge è che il 35% ritiene che la rivolta sia stata dettata da ragioni economiche, il 34% per la disoccupazione, il 31% per la corruzione, solo il 3% ritiene che la ragione principale della rivolta sia una rivolta contro la repressione politica e per la democrazia e complessivamente il 7% attribuisce alla repressione politica e alla democrazia un qualche rilievo nel motivare la rivolta popolare. C'è un altro dato che è significativo riguarda l'insieme della popolazione palestinese. Questo venerdì 23 di settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ci sarà un voto sulla proclamazione unilaterale dello Stato della Palestina. Probabilmente ci sarà un esito positivo di questa votazione con una iniziativa che resterà inevitabilmente sulla carta. Ricordo a riguardo che già nel 1988 l'allora Parlamento palestinese, l'Assemblea Nazionale palestinese promosse un'iniziativa simile e il risultato fu che una novantina di Stati riconobbero lo Stato palestinese ma senza alcun effetto reale. Ebbene c'è qualcuno che si è dato la briga di chiedere ai palestinesi se loro sono favorevoli alla proclamazione di uno Stato palestinese indipendente in modo unilaterale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite oppure tornare al tavolo delle trattative per raggiungere un accordo negoziato con lo Stato di Israele. Ebbene il risultato è questo. Il 35% dei palestinesi dice di essere favorevole alla iniziativa di proclamare uno Stato unilaterale della Palestina in seno alle Nazioni Unite. Il 59% dice invece che bisogna negoziare con Israele. Allora forse anche gli stessi leader palestinesi prima di assumere delle iniziative farebbero bene a consultare i loro cittadini. Un ultimo dato vi voglio dare per evidenziare la disparità che c'è tra la realtà e come viene rappresentata questa realtà. Limitatamente ai 300.000 palestinesi residenti nel settore orientale di Gerusalemme è stato chiesto loro se si dovesse realizzare una soluzione definitiva, due Stati per due popoli, lo Stato palestinese e lo Stato di Israele. Tu preferiresti, tu palestinese residente nel settore orientale di Gerusalemme, preferiresti continuare a vivere sotto la sovranità di Israele e diventare cittadino israeliano o preferiresti andare a far parte del nuovo Stato palestinese e diventare un cittadino palestinese? Ebbene la risposta è che il 39% dei 300.000 palestinesi del settore orientale di Gerusalemme ha detto che vogliono restare parte integrante dello Stato di Israele e diventare cittadini israeliani, mentre il 31% ha detto che vuole diventare cittadino palestinese e far parte dello Stato della Palestina. Anche queste sono considerazioni da tenere presente. C'è un ultimo dato che vi voglio dire e la domanda che è stata rivolta è nell'eventualità che si costituisca uno Stato palestinese e che per poter andare a risiedere nello Stato palestinese dovesse essere necessario trasferirti, tu accetteresti di trasferirti o preferiresti stare dove stai e far parte dello Stato di Israele? Ebbene il 54% ha risposto dicendo preferisco stare qui e non trasferirmi nello Stato, nel nuovo Stato palestinese. Ebbene, cari amici, qui si pone una domanda innanzitutto etica riguardante la deontologia giornalistica. Questi dati evidenziano il fatto che i giornali che noi leggiamo, le televisioni che vediamo, non raccontano la realtà per quella che è, non descrivono la realtà per quella che è. Noi abbiamo bisogno di un'informazione che sia corretta e responsabile. Viviamo in un mondo, viviamo in un'Italia, in un'Europa, dove l'informazione che circola è un'informazione mistificata, è un'informazione ideologizzata. Dobbiamo avere il diritto di conoscere la realtà per quella che è e questa realtà va raccolta da chi realisticamente la rappresenta. Se parliamo di Palestina e dei palestinesi, domandiamo ai palestinesi quello che veramente sentono e quello che veramente vogliono. In Italia c'è un grosso problema che riguarda l'informazione corretta e responsabile e io credo che anche sulla base di questa realtà dobbiamo cominciare a porci questa domanda e dobbiamo cominciare ad esigere il nostro diritto ad un'informazione corretta e il dovere di chi fa informazione a fare un'informazione responsabile.